Cos'è Etnitec per me? Per me Etnitec è futuro. Etnitec è l'insieme di energie innovative che le piccole imprese che operano nel digitale possono dare a questo paese. Noi lavoriamo all'insegna della co-petition, ovvero cooperative competition, forze che si uniscono insieme per poter sviluppare grandi progetti. Quindi non concorrenza, ma cooperazione. Etnitec per me è un bel posto dove lavorare. È un contesto innovativo dove la componente umana ha un alto valore, una seconda famiglia. Noi vogliamo che le aziende collaborino dentro di loro per poter sviluppare nuove realtà e nuovi sistemi. La trasformazione digitale della società è un processo in corso che ormai attraversa anche in modo implicito ogni aspetto della nostra vita. Le città, le metropolitane, i servizi stradali, i servizi pubblici, monitorare il territorio, parlare anche di scuola digitale. Sono questi gli elementi che compongono altre nostre applicazioni e altri nostri prodotti, ovvero il controllo, il monitoraggio e l'assistenza di tutto ciò. E in questo, il ruolo delle imprese che operano nel settore del digitale, oggi è anche un ruolo etico. Etnitec per me è innovazione e qualità. Emozione e affabeti per i beni culturali. Visione digitale. Etnitec nasce nella mitica Etna Valley, diventa consorzio stabile. Oggi conta oltre 20 imprese associate, un fatturato aggregato di oltre 80 milioni di euro, circa 800 unità di personale dedicate al digitale, con sedi operative in Italia e all'estero, in un progetto aperto che è destinato a crescere. Per me Etnitec è visione innovativa. Innovare per creare valore insieme. È un sogno che diventa realtà. Stiamo riuscendo a poter sviluppare una gamma ampia di prodotti e servizi che ci permettono realmente di cambiare tutto quello che abbiamo attorno a noi. Per innovare il paese e migliorare la vita del cittadino. Cambiando il paradigma, affrontare la pubblica amministrazione in maniera differente, offrire servizi ai cittadini utilizzando tecnologie abilitanti e nuovi sistemi proprio per dialogare tra di loro. La realizzazione di grandi progetti, il raggiungimento di importanti obiettivi stanno nella forza del gruppo, nella capacità di unire competenze a impegno, sacrificio nella quotidianità e anche nei momenti straordinari dove l'unione fa la forza. Grazie per la visione!